Ciao a tutti! Ciao a tutti e guarda a me! Intanto partiamo ringraziando tutti gli amici che ci hanno lasciato un feedback positivo per i like, i commenti sulla pagina di Facebook, i commenti su YouTube, le foto e le email che abbiamo ricevuto perché comunque non ce l'aspettavamo ma l'abbiamo ricevuto anche un sacco di email un sacco di email, ringraziamo veramente tutti e in tutte queste email abbiamo trovato un sacco di domande che ci avete mandato tantissime interessati ma non possiamo rispondere a tutte queste email piano piano almeno in una puntata, veramente numerosa qual è la domanda che hai visto che comunque è comparso più volte tra i nostri email? secondo me è quella riguardante quali sono i periodi migliori per andare ai parchi divertimento abbiamo avuto così tante domande di questo tipo che abbia deciso di parlarne appunto in questa puntata sì perché probabilmente ci devono organizzare le vacanze, per notare, cosa del genere non manca poi così tanto all'inizio della persona no, qualche mese, tre mesi e vola anche perché è più corto sì, esatto partiamo dalle regole basse diciamo le regole basse sono, ma questo è abbastanza facile cercare di evitare i fini settimana quindi cercare di andare in periodi di bassa stagione per periodi di bassa stagione intendiamo fuori dall'estate o perlomeno fuori d'agosto e fuori dalle feste comandate parliamo di Pasqua al 25 aprile in genere sotto Pasqua il 25 aprile i parchi italiani sono murati si parla di fare anche due ore di fila per ogni singola attrazione e questo è quello che stiamo cercando di evitare sicuramente la visita quindi va programmata in mezzo alla settimana e possibilmente nel periodo intorno a maggio o giugno diciamo potrebbe essere un periodo che magari inizia già a fare quel caldo quindi si corre meno il rischio di avere giornate brutte a livello meteorologico sono giornate in cui non ci sarà ancora quella affluenza molto alta ho avuto esperienza anche di qualche info settimanale critico soprattutto in due parchi italiani beh i parchi con più affluenza in Italia Gardaland e Mirabilandia hanno per cause di festività locali delle giornate con un'affluenza molto alta il lunedì per quanto riguarda Gardaland e il mercoledì per quanto riguarda Mirabilandia è ovvio che per ogni altro parco in Italia, in Europa, nel mondo prima di pianificare una visita bisogna anche magari dare un occhio alle festività locale se ci sono dei patroni, se ci sono dei ponti, se ci sono dei santi insomma questo tipo di cose qui un altro consiglio potrebbe essere quello di anche se tecnicamente è già alta stagione quello di andare nei, visto che l'Italia lo fa i parchi italiani fanno le aperture prolungate fino alle 11 la sera il classico serale il classico serale, esatto l'apertura serale che sembrerà strano ma la maggior parte degli altri parchi in Europa e nel mondo non fa serale siamo solo italiani che teniamo il parco aperto per 2-3 mesi fino alle 11 la sera questo è un surplus, diciamo, dei parchi italiani anche se magari quello è già alta stagione che quindi sarebbe conveniente, diciamo, evitare quelle ore in più che sono 5-6 ore in più allo stesso prezzo, ricordiamo del biglietto garantiscono la possibilità di fare numerosi altri giri sulle attrazioni anche se magari la fluenzera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti